Licky Mucciaccia ha fatto parte della storia recente e anche meno recente del nostro foro. È stato un maestro, una guida, un polemista formidabile, ma ha cresciuto e ha coltivato l'affetto, l'amore per la classe forense, per la crescita dell'avvocatura, contro la discriminazione. Abbiamo costituito il primo comitato per le pari opportunità, insomma, un maestro. Grazie.